Benvenuti in un nuovo video. La storia dell'uomo è costellata di cattivi, fin da Caine a Bele. A ben guardare, la ragione di questa cattiveria è sempre una di queste. Pazzia, smania di potere o cieca fedeltà a un'idologia. Ho raccolto i profili di 12 cattivissimi della storia, organizzati in quattro categorie. I killer psicopatici, i tiranni, i fanatici sanguinari, i diffamati, cioè quei personaggi che non erano proprio degli stinchi di santo, ma che i nemici trasformarono in leggende nere. L'elenco potrebbe essere molto più lungo, ma una scelta andava pur fatta. Iniziamo dalla vampira, Erzebeth Batori. Erzebeth Batori, la contessa Dracula, come è stata ribattezzata questa nobidonna ungrese del XVI secolo, è considerata la più spietata serial killer di sempre. Cannibale, sedutrice, bisessuale, diabolica, seviziatrice, vampira e sadica, per almeno vent'anni, torturò e sterminò più o meno 650 fanciulle. Attirava le ragazze con la promessa di un buon posto di lavoro, ma poi le faceva torturare nei modi peggiori. Aghi infilati sotto le unghie, se non finivano il lavoro di cuscito. Il marchio del ferro da stiro sul viso si stiravano male, picchiate selvaggiamente, ustionate, buttate nei campi d'inverno, nude e bagnate, a congelare. Sembra che la contessa facesse il bagno nel sangue delle fanciulle uccise. Credeva che ciò garantisse eterna bellezza. Secondo gli storici, però, la leggenda nera che avvolge la contessa, per quanto sadica e crudele, è esagerata e frutto del complotto dei suoi nemici di allora. E passiamo a Jack lo squartatore. Nel 1888 seminò il terrore dell'East Hand, una delle zone più malfamate di Londra. Eppure, il primo serial killer della storia non ha ancora un'identità, nonostante mille ipotesi, tra cui una clamorosa. Era forse Albert Victor, nipote della regina Vittoria, che in quei luoghi aveva contratto la sifilide. Voleva vendicarsi? Tutte le cinque vittime, infatti, erano prostitute. L'assassino le uccideva tagliando loro la gola, o poi si accaneva sugli organi interni, rimuovendoli con perizia quasi chirurgica, il che è indotto a pensare a un medico. Il misterioso omicida diventerà famoso col nome in calce a una lettera recapitata a Scott Young, Jack the Ripper, Jack lo squartatore. I sospetti caddero anche su Amelia Dyer, detta Jill the Ripper. La Dyer era però specializzata in bambini, li adottava per intascare i soldi, per poi ucciderli o lasciarli morire di fame. E passiamo al vero barbablu, Jill the Ripper. Fu talmente cattivo da finire in una fiabba, pare infatti si è ispirata al nobile francese Gilles the Ripper, la storia del barbuto uxoricida di Charles Ferrol. The Ripper però non decapitò a nessuna moglie, stuprò, torturò e uccise decine di bambini. Ex-heroe, imparentato con le famiglie più nobili della Bretagna e cresciuto alla corte del futuro Carlo VII di Francia, fu inizialmente un eroe di guerra al fianco di Giovanna d'Arco, nella lotta contro gli inglesi. Morta alla pulzella d'Orleans, si dedicò ad attività ben diverse, alla morte. Ritiratosi nelle sue terre, si diede, stand agli atti del processo che lo portò alla condanna a morte, all'alchimia, ma soprattutto alla pedofilia. Erano i suoi aiutanti a procacciarli giovani contadini e mendicanti di cui abusare per poi sgozzarli. Il dittatore cannibale Idem Amin Dada Per otto anni è stato il presidente dell'Uganda ed è tuttora considerato uno dei dittatori più eccentrici e sanguinari di tutta la storia africana. Si calcola che durante il suo regime furono uccisi circa 300.000 ugandesi. Ex-fuggile si distinse per il sadismo di alcune torture, come mozzare il pene a chi non voleva collaborare. Tra le molte accuse che li vennero mosse quando dare in vita ci può anche quella, mai documentata con certezza, di essere un cannibale ed aver mangiato i corpi dei suoi avversari politici. I tre dittatori Poche persone hanno influenzato negativamente la storia, e soprattutto quella europea, come i tre tiranni che hanno segnato il Novecento. Lo giallo sovietico Stalin, il Führer The Rich Adolf Hitler e il duce fascista Benito Mussolini. Il califo, Halakim Biamri Allah. Diventato califo dell'Egitto a soli undici anni, si sbarazzò presso del suo precettore, Lemuco Barijuan, ammazzandolo. Fu la prima di una serie infinita di burghe con cui ribadì il suo potere assoluto e arbitrario. Perseguitò cristiani, ebrei e musulmani sunniti. Lui era sciita, demolendo chiese, confiscando terre, proibendo riti eterodossi e facendo arrestare chi non pregava come diceva lui. Arrivò a distruggere nel 1909 la chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme, simbolo della cristianità. Pietò la birra, il miele, la vite, proibì le scommesse, la musica e gli scacchi, e impedi alle donne di uscire di casa e persino di affacciarsi alla finestra. Chi trasgrediva era punito con la morte. Inoltre si fece proclamare Dio e abolì la sharia, la legge basata sul Corano, sostituendosi di fatto ad Allah, troppo anche per i musulmani. Il torturatore, Tomas de Torkmada. Sparse il terrore in tutta la Spagna, per questo Tomas è ricordato come la leggenda nera. Capo dell'inquisizione spagnola, ordinò la tortura e la morte di centinaia di persone bollate come eretici. L'istancabile frate dominicano unì alla fede intransigente un certo sadismo. Ne pagarono le spese ebrai convertiti, sospettate di aver mentito, cambiando religione, solo per aver salva la vita. Donna accusata di stregoneria e molti musulmani. A tutti, secondo i dettami dell'inquisizione medievale, impose severe torture. Il suo potere durò fino al 1492, quando il nuovo papa, Alessandro VI, lo convince a ritirarsi in convento. Da lì riuscì però a ottenere dai sovrani spagnoli Isabella I di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona, il via libera per espellere tutti gli eprei dai territori spagnoli. Il divino marchese Donatien Alphonse Francois de Chadet. In nome della libertà, il marchese de Chadet giustificò i comportamenti sessuali più estremi. A suo parere tutto compreso il male, era lecito purché ci si lasciasse guidare tra leggi naturali del piacere. Consequenza di questa argomentazione furono le pratiche che prendono il nome proprio da lui, il sadismo. Lontano discendente di Laura de Nové, la donna cantata da Petrarca nei suoi versi, Donatien Alphonse Francois d'Acqua Parigi. Una brillante carriera militare e un matrimonio non gli impedirono di diventare un campione del libertinismo, spingendosi a ogni tipo di depravazione. Proprio per questi eccessi, posto a lunghi periodi in carcere e in manicomio, qui si dedicò alla scrittura. L'asse del male Osama Bin Laden. Mente dell'attacco alle torri gemelle di New York e mandante di quasi 3.000 morti fatti dagli attentatori, è la più recente incarnazione del cattivissimo in Occidente. Combattente della Jihad, la guerra santa islamista, è stata a lungo indicata dagli USA come il perno dell'asse del male, una serie di paesi fiancheggiatori del terrorismo antioccidentale. Di origini yemite e di famiglia benestante, Bin Laden si lavorò in economia a Ghedda, Arabia Osadita. Entrando in contatto con l'islam radicale, abbandonò lo stile di vita da vivo e si avvicinò alla lotta armata, organizzando una serie di attentati contro base americane all'estero. La causa della guerra all'Occidente divenne la sua ragione di vita e nel 1988 fondò il movimento Al Qaeda, la base. Braccato per anni, è stato ucciso in Pakistan il 2 maggio 2011. Il feroce Saladino Se per tutti è oggi feroce, la colpa è anche di un album di figurine, quello della bitone perugina. La più ambita e la più rara era proprio quella del feroce Saladino. In realtà Saladino è stato un personaggio a due facce, spietato e feroce come ci è stato tramandato dalla storia, scritta dai vincitori, ma anche magnanimo e leale, come molti condottieri fu responsabile di azioni spiatate contro i crociati. Era anche Clemente e giusto per i più deboli. Dante, nella Divina Commedia, riservò a Saladino un trattamento di favore. Lo mise sì nell'inferno ma nel limbo, unico musulmano insieme ad Avicenna e a Borre. Il Fragello di Dio Attila Attila Fragello di Dio? Ma che? Il re degli Ogni, che nel 452 invase l'Italia, era un abile negoziatore che fu a un passo dal diventare membro della famiglia imperiale. A tramandarlo come l'incarnazione del male fu la chiesa, che si era attribuita il merito di averne fermato l'avanzata in terra italica. In realtà Attila aveva condotto i suoi contro l'impero romano puntando alle sue ricchezze, ma sperando sotto sotto in un inserimento della società romana. L'idea di una convivenza pacifica tra i due popoli gli era venuta dopo che la sorella dell'imperatore d'Occidente, giusta grata onoria, gli si era offerta e esposa, e ciò fu il pretesto per l'invasione. Affermarlo definitivamente fu una banale emorragia dal naso, che lo soffocò nel sonno durante la prima notte di nozze con l'indico, una delle tanti mogli. Il mito di Dracula Vlad Terzo di Valacchia In Romania Vlad Terzo Draculea, il diavolo, è un eroe nazionale, è considerato un padre della patria. La propaganda nemica ne fece invece un mostro assedato di sangue. Molto di quel che si dice di lui deriva da racconti diffusi proprio alla fine del XV secolo, che poi ispirarono, nel nome almeno, il vampiro protagonista del romanzo Dracula del 1897 di Bram Stoker. Di vero, nella secolaria leggenda nera, costruita attorno a lui, c'è che era effettivamente spietato, anche se bisogna tenere conto del contesto storico in cui visse. Allora le feroci erano un monumento per tutti, nemici in primis. La stessa pratica dell'imperatura che lo ha consegnato alla storia come Tepes, l'impalatore, non fu introdotta da lui ma già dai crociati nel XIII secolo. Come altri al suo tempo, la usò come spauracchio per gli avversari, che indireggiavano di fronte alle foreste di corpi impalati. Erode. Secondo il Vangelo di Matteo, il re Erode, il Grande, si marchiò dal delitto di centinaia di bambini maschi di età inferiore ai due anni, con lo scopo di uccidere Gesù. Il Vangelo di Matteo è l'unica fonte, considerando sia quelle pagane che quelle cristiane in cui viene narrato questo episodio. Nerone. L'immagine dell'imperatore romano della dinastia Giulio Claudia ci viene tramandata dalle fonti come quella di un grande tiranno è un uomo crudele. Venne accusato di avere appiccato il grande incendio a Roma nel 64 d.C., tuttavia la storiografia, contemporanea, è quasi tutta concorde nel discolpare Nerone da questo reato e inoltre spinge per rivedere l'immagine dell'imperatore, considerandolo né pazzo né crudele come le fonti lo hanno sempre descritto. Dio Creaziano. L'imperatore romano vissuto a cavallo dal III e IV secolo d.C., fu uno dei più grandi persecutori dei cristiani. Sostenitore del paganesimo diede avvio a una grande persecuzione che portò all'uccisione di tantissime persone, ma anche al rogo dei libri sacri, alla distruzione dei luoghi di culto cristiano, alla perdita dei privilegi per alcuni cristiani d'alto rango e all'arresto del clero. Inoltre con un editto emanato nel 304 d.C., ordinò a tutti i cittadini dell'impero romano di sacrificare vittime in onore degli dèi. Alessandro VI. Roderigo Borgia. Il cardinale Roderigo Borgia, salito sul trono di Pietro, con il nome di Alessandro VI, è considerato uno dei papi più crudeli e lusterosi della storia. A un suo stesso inganno, condusse una vita densa di intrighi e affari sporchi. Ebbe quattro figli della cortigiana Vannozza Cattanei, Cesare, Lucrezia, Giovanni e Goffreto, uno dall'aristocratica Giulia Farnese, più alti tre da altre donne. Abilissimo nel manipolare il prossimo, fece diventare cardinale il suo stesso figlio Cesare e spinse Lucrezia a sposare il signore di Pesaro Giovanni Sforza, con l'obiettivo di stringere alleanze strategiche che gli potessero essere d'aiuto. Micheletto. Michel Decorella, conosciuto comunemente come Micheletto, fu il sicario spietato del cardinale Cesare Borgia, figlio di Papa Alessandro VI. Il numero degli omicidi commesso da Micheletto per ordine di Cesare Borgia non è noto, ma si sa con certezza che uccise il marito di Grazia Borgia, Alfonso d'Aragona, come anche Vitellozzo Vitelli e Oliverotto da Fermo, i quali vennero strangolati contemporaneamente con una corda di violone. Enrico VIII, Tudor, è ricordato soprattutto per il suo discutibile comportamento. Ebbe sei mogli, tra cui Caterina d'Aragona e Anna Bolena. Enrico VIII fece annullare il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, poiché lei non gli diede l'erede maschio, mentre ad Anna Bolena toccò una sorte ben più triste. Accusata di stegroneria dal marito, la condannò a morte e il giorno dopo dell'esecuzione sposò la nobita di corte Jane Seymour. Un'altra vittima di Enrico VIII, Tudor, fu il suo consigliere Thomas Crowell, che il re mantenne in vita giusto il tempo per far sì che testimoniasse a favore dell'allunamento del suo matrimonio con Anna de Cleverest. Successivamente lo fece condannare e in seguito diede la colpa della sua morte ai ministri inglesi. Karl Brandt, il medico nazista Karl Brandt, fu l'accompagnatore personale di Adolf Hitler. A lui si dà la responsabilità per la terrorizzazione e pratica eugenetica, ossia per i metodi finalizzati al perfezionamento della specie umana che portarono all'Holocausto. Brandt venne condannato a morte con l'accusa di crimini contro l'umanità. Pol Pot, il dittatore cambogiano Pol Pot fu responsabile della morte di circa un milione e mezzo di persone, tra cui bambini e anziani. Uccise mediante torture e massacri vari, numero al quale bisogna aggiungere centinaia di migliaia di morti, uccisi dal lavoro forzato, dalla mannutrizione e dalla mancanza di assistenza sanitaria. Nel 1997 fece uccidere il suo braccio destro Sonsen. Bruto e Cassio. Marco Giugno Bruto. Era figlio di Marco Giugno Bruto, tribuno della plebe dell'83 a.C. e di Servilia, sorellassa di Catone e Uticense. Bruto studiò in Grecia, venne considerato un filosofo di tendenze stoiche. Nel 1953 fu questore di Appio Claudio in Cilicia. Bruto presava denaro a usura, anche del 48%, quando il tasso normale era del 12% e non mancava di utilizzare i soldati romani per riavere indietro i denari prestati. Nella guerra civile tra Cesare e Pompeo, fu sostenitore di Pompeo, nonostante questi nel 77 avesse fatto uccidere suo padre, nonostante si fosse arreso a Modena. Dopo Farsalo, 48 a.C., venne perdonato da Cesare ed entra a far parte del suo stato maggiore, abbandonando Pompeo in fuga verso l'Egitto. Nel 46 divorziò dalla moglie Claudia, figlia di Appio Claudio, e sposò Porcia, figlia di Catone Uticense, che era stato acerrimo nemico di Cesare. Porcia fu l'unica donna a conoscenza della congiura. Nel 46 ebbe il governo della Gallia Cisalpina. Nel 44 fu nominato Praetor Urbanus da Cesare. Cassio fu l'istigatore della congiura contro Cesare. La sua motivazione per l'avvio di una tale trama è una combinazione di ideologia politica e invidia personale. Alle iddi di marzo, mentre aspettava Cesare nella curia, gli giunse la notizia che sua moglie Porcia stava morendo. Bruto mantiene la calma e decide di non andare a casa. In realtà Porcia era solo svenuta a causa di un attacco di ansia, non avendo notizia del marito, ma questo Bruto non poteva certo saperlo. Dopo la morte di Cesare fu, insieme a Cassio, il capo della guerra contro Ottaviano e Antonio. Nel 42 morì suicida a Filippi. Caino fu il primo omicida, il criminale, il sovvertitore dell'ordine, l'irrompere della violenza, la barbarie. La Bibbia dice che Caino è il fondatore della città, cioè della civiltà, l'istauratore dell'ordine e della legge. Dopo l'assassino del fratello Abele, il Signore gli mostra quanto è orrendo il suo atto e visto il terrore di Caino, proclama chiunque ucciderà Caino subita la vendetta sette volte. Poi impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque lo avesse incontrato. Una pagina profonda e misteriosa da cui prendiamo questi elementi, il divieto da parte di Dio di uccidere Caino, è il fatto che proprio lui, l'assassino, diventa il fondatore della civiltà, cioè di una città, Enoch, dal nome del figlio, che sorge dal deserto. Calligola Succedette a Tiberi, di cui era pronto nipote, a 25 anni e protendeva infatti verso la Repubblica e iniziò ben presto una efficace collaborazione con i padre Constriptis della città. Tutti lo giudicavano con favore, come persona e come imperatore. Calligola promosse amnistie, diminuì le tasse, organizzò giochi e feste, resi di nuovo legali commizi. Questo periodo felice non durò in eterno. Dopo solo sette mesi da imperatore, Calligola venne colto da un'improvvisa e strana malattia. Ne uscì sconvolto nel fisico, ma soprattutto nella mente. Divenne rapidamente cinico, megalomane, sanguinario e assolutamente folle. Condannava a morte per i motivi più futili e spesso condannava due volte la stessa persona, non ricordando di averla già fatta uccidere. I senatori, visto il pericolo che era diventato, tentarono di farlo assassinare, ma inutilmente. Quando poi morì la sorella di Calligola, Drusilla, con la quale pare avesse avuto rapporti incestuosi, la salute mentale dell'imperatore ne risentì ancora di più. Divenne rapidamente un autentico despota, facendosi chiamare imperatore, oltre che parte della patria. Davanti a lui tutti dovevano genuflettersi. Aveva stabilito che il 18 marzo di ogni anno doveva diventare festa in suo onore. Si faceva chiamare come gli dèi, Giove, Nettuno, Mercurio e Venere. Spesso infatti si vestiva con abiti femminili e portava braccialetti e gioielli vistosi. In confronto ai suoi, i crimini attribuiti a Tiberio impallitivano. Il suo regno durò solo quattro anni, fu infatti ucciso il 24 gennaio del 41, quando stava lasciando un'arena durante i luti paladini. Lo pugnararono 30 volte, assieme a lui vennero giustiziati tutti i parenti prossimi. Neppure la sua giovane bambina, Giulia Drusilla, venne risparmiata. Fu scalaventata contro un muro. Come suo padre, anche Gallicola verrà ricordato come un tiranno. Dioniso di Siracusa fu considerato dagli antichi come un tipo delle peggior specie di despota crudele, sospettoso e vendicativo. Fu un uomo di grande impietà e infatti era così desideroso di ricchezze che derubava anche i tempi degli dèi. Una volta dopo aver saccheggiato il santuario di Proserpine, ritornò a Siracusa. Vide il simulacro di Giove ricoperto con un mantello dorato. Dopo aver subito portato via quel mantello di grande peso, aggiunse queste oltraggiose parole. Questo rivestimento è insopportabile in estate, inutile d'inverno. Allora, gettando sopra quel simulacro un mantello di lana, disse ridendo che quello era adatto a ogni periodo dell'anno. Ronald Fraisler, giudice nazista, polimista nato, giove intelligente, studiò a legge all'università di Kale. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, Fraisler fu inviato al fronte russo, dove fu fatto prigioniero di guerra dai russi da ottobre 1915 al 1920, ma imparò in prigionia la lingua russa che gli sarà successivamente utile durante la sua carriera. Era un prigioniero modello e fu presto promosso a commissario del campo. Successivamente ottene la croce di ferro per il suo servizio. Dopo il suo congedore all'esercito, Fraisler completò la formazione giuridica e si guadagnò un dottorato in legge. Simpatizzante, si iscrisse anche al partito comunista tedesco. Si trasferì a Berlino nel 1923 per esercitare la sua professione di avvocato. In politica gradualmente si spostò a destra e nel luglio 1925 entrò a parte del partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. Membro della Dietra Prussiana A giugno 1933, segretario di Stato presso il Ministero della Giustizia prussiano, membro del Consiglio di Stato prussiano e nell'ottobre del 1933, segretario di Stato del Ministero della Giustizia di Prussia. Quando Adolf Hitler salì al potere, ritenendolo allora sistema giudiziario troppo clemente, istituì la Corte Nazionalsocialista del Popolo, che riguardava unicamente i casi di tradimento contro Hitler e il nazismo. Ronald Freisley, ammiratore di Hitler, divenne presidente del VGH nel 1942 fino alla sua morte nel 1945. Sotto Freisley, il VGH condannò migliaia di azioni politiche, di parole e pensiero considerati come tradimento perché contro lo Stato totalitario e ogni difesa era inutile. I verdetti di coprevolezza erano una conclusione scontata e le condanne a morte inevitabili. Freisley si scagliava con violenza sugli imputati con esplosori verbali in aura leggendaria. Nel luglio 1942, con Renan Heinrich, Enrich Muller e Adolf Hedman partecipò alla conferenza di Guarnesee dove si decise lo lucausto. Freisley a Monaco presedette il processo di Hans e Sophie School e del loro amico Christopher Frost il 22 febbraio 1943, privando gli imputati di ogni difesa e condannandoli a morte per ghigliottina. Freisley fu poi il protagonista del processo agli attentatori del colpo di Stato del 20 luglio 1944. Umiliò i cospiratori urlando contro di loro. Morirà durante un bombardamento aereo su Berlino il 3 febbraio 1945. Ivan il Terribile all'inizio del suo regno parte di manifestare le stesse qualità che avevano ispirati i giovani re e i principi guerrieri dell'Europa occidentale. Enrico V, Giovanni senza paura, Carlo VIII, Enrico V. Ma la sua tragedia familiare coincise con il primo dei numerosi e gravi attacchi di paranoia che sconvolsero totalmente il suo equilibrio e la crudeltà e il sadismo catenati sui eliteri di governo finirono per propagarsi in cerchi sempre più ampi in tutto il paese, in un'orgia di depravazioni culminate nella moltiplicazione di supplizi e atrocità. Persino le persone più ossefatte agli orrori del XX secolo non possono far almeno di inorridire di fronte al numero di uomini, donne e bambini che furono sacrificati dalla mania di persecuzione dello zar al demone della paura. Uomini uccisi in battaglia, nelle camere di tortura o giustiziati, spesso senza i conforti religiosi e senza sepoltura, cadaveri gettati in pasta ai cani, donne carnefici e vittime, bambini massacrati con modalità sconosciute. Quanto odio deve aver consumato una società in cui carnefici e vittime avevano legami molto stretti e dove per sopravvivere occorreva passare sui cadaveri di amici e parenti. Ivan e il suo regno erano una sola cosa, fisicamente e spiritualmente. La fusione dell'umano con il divino lo autorizzò a purificare il mondo dal peccato, servendosi della violenza divina. Grigori F. Mekki Rasputen nacque il 10 gennaio 1869 in un piccolo villaggio della Siberia, sulle rive del fiume Tara, presso Tolbos, vicino ai monti Urali. Crebbe nella cultura contadina e rimase fondamentalmente un semiano alfabeta per tutta la vita. Si narra che da piccolo cade nel fiume gelito con suo fratello e che riuscì a guarire da una grave polmonite, dopo giorni di deliti e strani visioni. Suo fratello invece morì lasciando un vuoto incommabile nella sua esistenza. Da bimbo torbolento si trasformò in fretta in un giovane uomo, il reo chieto, che infilava un guaio dopo l'altro. Si ubriacava, rubava, correva dietro alle donne per soddisfare un appetito sessuale che sembrava non placarsi mai. Rasputin è il soprannome che si guadagna proprio in quegli anni e in russo significa depravato. Durante una delle tante scorribande finì al monastero di Berton Jury, si imbattendo nella setta rinnegata dalla chiesa ufficiale ortodossa. Gli adepti di tale setta sostenevano che per comprendere appieno l'essenza di Dio era necessario peccare. Tramide l'intima conoscenza del male il peccatore poteva pentirsi, confessare e infine ottenere il perdono. Un circolo vizioso che aveva come obiettivo la catarsi in cui l'uomo si macchiava di ogni tipo di colpa per continuare a godere della grazia divina. Rasputin allora 18enne abbracciò con entusiasmo la nuova religione, cominciò a vestirsi come un monaco, si attenne con costanza ai dogmi della setta, adattandoli però al suo piacimento a seconda delle occasioni, e si proclamò veggente e guaritore. Diceva di aver avuto delle visioni e di essere guidato dalla volete di Dio. Ebbero inizio i suoi pelleclinaggi attraverso il paese, durante i quali attirò l'attenzione di chi vedeva in lui una piacevole novità in un impero incatenato ad antiche regole ferree. Ciò si arrivò quando fu chiamato alla corte dello zar Nicola II per guarire il figlio emofiliaco. A un anno di vita infatti rischiò di morire per un banale incidente. Alessandra incolpava se stessa e il sangue malato che scorreva nelle vene di molti membri della sua famiglia, afflitti dalla stessa malattia. Gli affranti sovrani videro in lui il miracolo tanto invocato, quando riuscì a bloccare l'ennesima emorargia del piccolo Alessio. Alcuni suppongono che ipnorizzò il bambino e lo guidò verso una sorta di autocuarigione, altri che utilizzò i suoi poteri soprannaturali per far coagulare il sangue. In ogni caso, l'episodio fu sufficiente a trasformare un semplice ex contadino e pseudoprete in un membro della famiglia reale. Rasputin continuò la sua attività di guaritore e consigliere spirituale anche all'esterno della corte. Riceveva quotidianamente tutti coloro che chiedevano il suo aiuto. La Russia intera non sapeva spiegarsi come fosse possibile che gli imperatori accettassero un individuo così ambiguo a palazzo. Nessuno sapeva della malattia del piccolo Alessio e questo portò molte persone a dubitare dell'integrità morale dello zar Zarina. Fu assassinato nel 1916. Maximilien Robespierre fu uno dei più feroci leader della rivoluzione francese che attraverso il governo rivoluzionario fece assassinare il re senza un processo. E' stato uno dei principali fautori del regno del terrore, in cui pestro la vita da 18.500 a 40.000 persone, di cui 1900 uccisi nell'ultimo mese del suo potere. Tra i condanni da morte dei cosiddetti tribunali rivoluzionali, l'8% erano aristocratici, il 6% del clero, 14% della classe media, 70% operai o contadini accusati, soprattutto di crimini solo presunti. Saddam Hussein nasce a Ujja nel 1937. Si dedica alla politica molto presto, militando dal partito socialista Arabo Bha. Nel 1959 viene condannato per l'uccisione del leader politico Quasin e fugge, prima in Siria e successivamente al Cairo. Solo nel 1964, dopo essere rientrato in Iraq, venne eletto nelle file del Bha e ne diventa uno dei protagonisti carismatici, tanto che nel 1968 è l'indistrusso promotore della rivoluzione irachena, che lo vede agire in diversi colpi di stato, tese a rovesciare il governo allora in carica. Nel 1979 il segretario del Bha e nello stesso anno diventa il presidente della Repubblica irachena. Un anno dopo gli attreti fra Iraq e Iran si fanno sempre più aspri a causa dell'occupazione iraniana di alcuni territori itacheni. Il risultato è una dura guerra, cruenta e drammatica. Saranno migliaia i morti contati alla fine del conflitto, durato 15 anni, e nessuno ne uscirà vincitore. È il 1988, lo stato iracheno in quel periodo è debole ed estenuato dalla guerra, da cui è appena uscito, ma la sede di potere di Saddam non si placa. Due anni dopo, nel 1990, invade il Kuwait, ignorando completamente le ripercussioni, non solo nei paesi arabi, ma anche nei paesi ad essi alleati. Continua la sua avanzata fino al gennaio 1991, quando partirà la controoffensiva americana denominata Desert Storm. La ritirata non sarà la giusta via di fuga. I telegiornali di tutto il mondo mostreranno il fallimento iracheno. Migliaia di invasori giaceranno per le strade che vanno dal Kuwait all'Iraq senza vita, ma con un bottino in mano, un presepe di morte annunciata. Nonostante la dura sconfitta inflittagli, Saddam resta al potere e continua il suo sterminio a scapito delle minoranze kurde, da sempre marginate dai vertici dirigenziali della dittatura irachena. Si parla di 100.000 kurdi eliminati nelle maniere più efferate, ma questi dati restano pressoché sconosciuti. Le limitazioni di sorvolo sull'area irachena impediscono a Saddam di portare avanti questo nuovo olocausto contro i popoli kurdi, ma la sua berra indicata egemonia inizia a traballare a causa delle sanzioni imposte dall'ONU e per la fragile congiuntura economica che si va prospettando, dovuta anch'essa agli embarchi internazionali. Nonostante il petrolio sia una fonte indiscussa di introiti sicuri, la popolazione è privata completamente di tutti i beni necessari alla propria sorvidenza. Il declino di Saddam inizia lentamente a profilarsi, benché lui stesso abbia ordinato la costruzione di un monumento a Baghdad per celebrare la vittoria su piuttosto. Dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001, gli Stati Uniti, alla ricerca dei mandanti dei presunti terroristi complici e di armi chimiche letali, attaccheranno l'Afghanistan e successivamente l'Iraq. Nel 2003 l'Iraq è invasa dalle truppe americane e il 13 dicembre dello stesso anno viene catturato Saddam Hussein. Il rise viene trovato all'interno di un buco scavato nella terra. Il voto trasfigurato da una barba incolta e uno sguardo perso nel vuoto farà il giro del mondo. Viene processato da un tribunale iracheno per la strage di Dujai di 148 sciiti. Il 5 novembre il proclama della sentenza viene espresso dalla stessa giuria, condanna a morte per impiccagione per crimini contro l'umanità. E tutti gli altri? L'elenco potrebbe continuare. Il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un bel like e se volete poter iscrivervi non dimenticando di attivare la campanellina. Un bacio e al prossimo video. Un bacio e al prossimo video.